ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vediamo come funziona l'autenticazione con le chiavi ssh abbiamo il client che siamo noi che ci vogliamo collegare al server e che dall'altra parte il nostro corrispondente viene generata dinamicamente una chiave di sessione ogni volta che ci colleghiamo e quindi sarà sempre diversa ogni volta che ci ricolleghiamo e viene generata con l'algoritmo di Diffie-Hellman che praticamente è una cosa simile a quella dell'RSA vista la volta scorsa ma che funziona in maniera leggermente diversa innanzitutto il client propone un numero primo abbastanza grande al server io qui ho scelto un 7 come esempio 7 non è abbastanza grande chiaramente ma dobbiamo portare la cosa a una dimensione umana e il server dice sì sì mi piace il 7 come numero primo gli risponde ok quindi hanno concordato un numero primo abbastanza grande poi dopo devono concordare anche un sistema di criptazione ad esempio AES va bene criptare i dati con AES ok va bene va bene allora criptiamo con AES a questo punto sia il server che i client senza parlarsi generano un altro numero primo ad esempio in questo caso il client ha generato 11 e il server ha generato 17 questo viene tenuto segreto non viene condiviso con nessuno viene usata come chiave privata per la connessione corrente a questo punto sempre parallelamente senza comunicarsi il server e il client generano una chiave pubblica utilizzando il numero primo che avevano deciso inizialmente quel largo numero primo certo che hanno concordato con la criptografia AES e la propria chiave privata quindi usciranno chiaramente due chiavi pubbliche diverse per il client e per il server però le chiave pubbliche sono pubbliche quindi ce la possiamo scambiare e così abbiamo che sia il client che il server hanno sia una chiave pubblica che è del corrispettivo sia la propria chiave privata a disposizione a questo punto il client e il server devono generare una chiave segreta che sia simmetrica ma che entrambi conoscano però non possono condividersela quindi è qui che si vede il passo finale cioè la magia di Diffie Hellman praticamente viene generata una chiave segreta combinando la propria chiave privata la chiave pubblica del corrispettivo con cui vogliamo parlare e questo famoso numero primo iniziale che ci eravamo scambiati avevamo concordato e dalla parte opposta ugualmente e anche dall'altra parte viene utilizzata la propria chiave privata che è diversa dalla chiave privata del client perché questa è la chiave privata appunto del server la chiave pubblica del client e il grande numero primo che era stato concordato inizialmente quindi come vedete hanno questo set che è il numero primo concordato inizialmente in comune hanno ognuno la rispettiva chiave pubblica e poi viene combinato con la chiave privata per un giochetto matematico dovuto a tutti i passaggi precedenti Diffie Hellman permette di generare in questa maniera una chiave che in realtà poi sarà uguale per entrambi ora sia il server che il client dispongono della stessa chiave che è simmetrica appunto però non se la sono scambiata in chiaro da questo momento in poi possono cominciare a cifrare tutti i dati che si trasferiscono con questa chiave ora che è stato instaurato un canale sicuro su cui comunicare crittato e protetto da occhi indiscreti possiamo cominciare la fase di autenticazione dell'utente sul server e qui avviene l'autenticazione con le chiavi ssh cosa succede il client invia il proprio identificatore di chiave pubblica al server il server controlla se l'id della chiave pubblica che ha ricevuto è all'interno delle chiavi autorizzate del proprio file authorized key che praticamente contiene tutte le chiavi autorizzate all'accesso su quel server con un certo utente naturalmente nel caso non la trovasse restituisce un errore e l'autenticazione fallisce se invece però la trova dice ok allora utilizzo la sua chiave che ho qui in authorize key per crittare un messaggio il messaggio sarà un numero casuale in questo caso esce un 5 esce un numero 5 numero casuale io l'ho critto con la sua chiave pubblica vi ricordate il video su rsa bob e alice ecco andatevelo a rivedere se non vi ricordate una volta che ho crittato questo messaggio con la chiave pubblica del client soltanto la chiave privata del client potrà decifrarlo quindi il server invia al client il messaggio cifrato il client se legittimo disporrà della propria chiave privata e quindi sarà in grado di decifrare il messaggio e vedere che era 5 ok perfetto a questo punto cosa fa calcola l'MD5 io qui ho messo un simbolo di somma ma sono combinate le due cose non per forza sommate ecco possono essere combinate dalle più svariate leggi somma moltiplicazione divisione cose insieme mixaggio 1 2 1 2 1 2 shifting binario eccetera 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 questo non è un dettaglio rilevante ma viene combinato con la chiave di sessione che è stata scambiata e concordata inizialmente vi ricordate quel largo numero primo bla 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 che sarebbe 7 poi non è così largo d'accordo l'MD5 risultante sarà un qualcosa tipo f23 uguale uguale insomma cose del genere e lo invia in risposta al messaggio che aveva ricevuto prima che era questo qua lo invia in risposta al server il server si calcola anch'esso autonomamente se 5 che sa che era 5 perché lo ha generato lui randomicamente se l'è salvato più quella chiave appunto che è stata condivisa inizialmente è uguale all'hash che abbiamo ricevuto se è uguale all'hash che abbiamo ricevuto vuol dire che dall'altra parte appunto il client ha svolto correttamente le operazioni che doveva svolgere ha decritato correttamente il messaggio a lui destinato che era 5 e l'ha combinato con la chiave di sessione che è stata scambiata inizialmente così abbiamo verificato sia l'identità di chi si vuole connettere cioè chi mi ha mandato questa chiave pubblica e anche in possesso della chiave privata quindi è sicuramente lui che il fatto che sto parlando con la stessa persona con cui ho iniziato la connessione quindi se l'MD5 di queste due cose corrisponde autentichiamo l'utente gli diamo una shell se non corrisponde restituiamo un errore di autenticazione qui ho fatto un altro appunto che l'algoritmo di Diffie Hellman è usato per crittare la connessione come avete visto al punto numero 1 nella prima pagina di questo pdf mentre l'RSA la chiave RSA oppure equivalente perché possono essere chiave SSH anche non RSA anche con algoritmi simili comunque sempre a chiave asimmetrica viene usata soltanto per autenticare l'utente quindi abbiamo una doppia sicurezza una doppia crittografia viene utilizzato il sistema diciamo delle firme barra crittografia di RSA per autenticare l'utente in questa maniera qui come avete visto con la sua chiave pubblica crittomessaggio che solo lui può leggere se lo può leggere mi risponde con il contenuto del messaggio più qualcosa che ci siamo scambiati prima sono sicuro che sia lui che il fatto che la connessione sia cifrata con Diffie Hellman come abbiamo visto qua perché abbiamo generato siamo stati in grado di generare una chiave simmetrica senza parlarci direttamente senza comunicarcela direttamente probabilmente questo video uscirà prima del video pratico su SSH ma il prossimo video appunto sarà quello su come si creano le chiavi SSH e non vi preoccupate che anche se può sembrare un po' macchinoso e un po' complicato tutto questo discorso in realtà viene fatto tutto molto autonomamente in realtà dai computer e noi ci preoccupiamo di veramente pochi dettagli di quello che accade è fatto per essere semplice e trasparente all'utente finale e quando noi utilizziamo SSH siamo l'utente finale bene ragazzi questo è tutto se vi è piaciuto spolliciate e ci vediamo al prossimo video ciao